Con Jurassic World Evolution 2 torna il gestionale di Frontier Development dedicato al franchise che sogna di farci mangiare tutti dai dinosauri. La software house è specializzata nel genere ormai da anni e lo ha portato a un perfezionamento tecnologico costante tramite diversi brand. Per questo il filo che lega i titoli Planet Coaster, Planet Zoo e questo Jurassic World Evolution 2 è tutt'altro che sottile ed è emerso in maniera ancor più evidente durante il nostro provato. Un test di un paio d'ore che è servito per scoprire alcune novità e verificare l'estrema concretezza del progetto. Jurassic World Evolution 2 moltiplica tutto ciò che c'era nel primo capitolo. L'intero impianto originale è stato confermato, ma sembra essere stato migliorato e arricchito di molti più contenuti. Il concept è sempre lo stesso, creare e gestire dei parchi pieni di dinosauri guadagnando soldi dai visitatori a corsi per vederli. Naturalmente il fatto che si tratti spesso di creature gigantesche e feroci complica leggermente le cose, ma sono semplici dettagli per un imprenditore rapace. Durante le due ore di test siamo stati messi di fronte alla campagna narrativa e alla nuova modalità Teoria del Caos, di cui parleremo tra poco. Nella campagna si nota subito l'attenzione posta da Frontier sul lato narrativo. Ci sono tutti i personaggi più amati, come il dottor Ian Malcolm, interpretato dall'attore Jeff Goldblum, o Claire Deering, interpretata da Bryce Dallas Howard, e parlano in continuazione. L'editor dei parchi è stato potenziato con tutte le novità e i perfezionamenti visti negli ultimi giochi, più alcune caratteristiche pensate per Jurassic World Evolution 2, dove è richiesto di costruire e gestire velocemente su delle superfici molto ampie. In questo senso, chi abbia già giocato a uno qualsiasi degli ultimi gestionali di Frontier si troverà a casa. L'interfaccia di costruzione è veloce e chiara, ogni operazione richiede pochi click ed è presente anche un ricco tutorial che spiega tutte le basi del gameplay. La produzione appare quindi molto più ricca di quella del primo capitolo. Ma come si ottengono i dinosauri? Fondamentalmente in due modi, recuperando quelli fuggiti nel caso si lavori al restauro di un parco distrutto, o facendoseli consegnare dai nostri allevamenti. La seconda modalità richiede solo di indicare dove far atterrare gli ospiti preistorici, normalmente in un recinto già attrezzato, mentre la prima è più interessante. Bisogna infatti andare alla ricerca dei fuggiaschi, addormentarli e indicare ai veicoli di trasporto di andare a prenderli per portarli nel parco. Come nel primo Evolution, anche qui le operazioni di caccia sono eseguibili direttamente o delegabili tramite ordini indiretti. I dinosauri gestibili saranno decine, ma nella versione di prova ne abbiamo visti solo una minima parte. In più se ne potranno creare di nuovi nei laboratori genetici, sviluppando e incrociando i genomi presenti nei fossili trovati in giro per il mondo. Probabilmente con il tempo ne saranno aggiunti anche altri tramite DLC, ma ne riparleremo a tempo debito. Ogni dinosauro ha dei bisogni che vanno soddisfatti se non lo si vuol vedere spaccare le recinzioni. I tirannosauri, per esempio, sono inclini a ribellarsi e a seminare morte e distruzione tra i visitatori. Quali sono questi bisogni? Quelli tipici di ogni animale. Avere un habitat confortevole in cui vivere, mangiare, bere ed essere appagati nei propri istinti primordiali. Ad esempio, a certi dinosauri non basta semplicemente nutrirsi, ma vogliono poter cacciare le loro prede. Altri vogliono degli spazi più aperti possibile per muoversi liberamente. Quando non è possibile soddisfare i bisogni dei dinosauri nell'immediato, diventa necessario assoldare scienziati per ricercare i miglioramenti necessari. Si tratta di operazioni fondamentali perché dei dinosauri instabili significano pericoli concreti per i visitatori, e troppi visitatori morti significano danni irreparabili per gli affari. Per la manutenzione del parco vengono impiegati i soliti ranger che, come nel primo capitolo, sono utilizzabili in prima persona o sono indirizzabili tramite ordini diretti. La teoria del caos è una modalità dal nome altisonante che in realtà non è altro che una variante della campagna narrativa. Qui vengono esplorate linee narrative alternative attraverso degli scenari precostituiti ispirati ai film. Le altre modalità incluse nel pacchetto sono quelle sandbox, ossia la possibilità di costruire un parco liberamente, e quella sfida, in cui il giocatore dovrà vedersela con diversi scenari. Purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di provarle direttamente. Altro aspetto da verificare è quello gestionale, la cui eccessiva superficialità era uno dei problemi principali del primo episodio. Dal tempo che abbiamo trascorso in Jurassic World Evolution 2 è difficile dire se sia stato migliorato e se ora sia capace di simulare davvero l'economia di un parco di dinosauri rappresentando una vera sfida per il giocatore. Vi sapremo sicuramente dire quando metteremo le mani sulla versione finale. Voi intanto iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanellina, così sarete sicuramente i primi a essere informati. Anche il comparto tecnico mostra un deciso passo in avanti rispetto al primo capitolo. I dinosauri ora sono più dettagliati e hanno più animazioni, tanto da apparire più verosimili e naturali. Anche le strutture e i vari oggetti che compongono i parchi sembrano essere migliorati, sia per qualità che per varietà. Il provato di Jurassic World Evolution 2 ci ha regalato due belle ore di gioco, durante le quali ci siamo attardati a costruire recinzioni e osservare per bene i dinosauri, ritraendoli con la modalità fotografica. Ci ha fatto venire voglia di continuare a giocare, e questo è un segnale sempre positivo in fase di anteprima. Rimangono da verificare alcuni aspetti fondamentali, come quello gestionale, ma per il resto ci è sembrato di trovarci di fronte al solito gioiello targato Frontier. Speriamo di non aver preso un abbaglio. Voi avete giocato il primo episodio? E cosa ne pensate delle novità introdotte qui? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e non dimenticate di lasciare un bel mi piace per aiutarci a tenere a bada i T-Rex. Qui accanto trovate alcuni video che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine. Grazie per aver guardato fino alla fine.